La settimana di RaiSport è tutta ad un fiato. Sette giorni dedicati alla giornata mondiale della risata e della fratellanza del 6 maggio. A partire da sabato, ride bene chi ride ultimo nel campionato di basket di Lega 2, scafati contro Brindisi. Domenica, al grido di uno per tutti, tutti per uno, si scatenano Prato e Mogliano nella semifinale del campionato d'eccellenza di rugby. Lunedì, nel basket femminile, Taranto e Schio vengono solleticate da una voglia di vincere contagiosa. Martedì, una raffica di colpi a crepa pelle nella prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno. Mercoledì, l'Unione fa la forza nella massima serie di calcio a 5. Marca Fuzzal si batte con acqua e sapone. Giovedì, nella battaglia del torneo di qualificazione olimpica di volley maschile, a svellicarsi sarà l'Italia o la Germania. Venerdì, fiori nei cannoni in occasione della tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo. E ogni giorno la storia fa buon sangue con Memoria Rai Sport. E non perdete il flusso continuo di notizie nelle edizioni dei TG. Grazie a tutti.